Buongiorno popolo rossonero, buongiorno popolo del bandito, oggi è tutto un fiorire di nomi, nomi su nomi su nomi su nomi per il mercato del nostro Milan, adesso valutiamo un attimino insieme e cerchiamo di capire come non manca molto, pochi giorni il mercato di gennaio finisce quindi vediamo come interpretare tutti questi nomi che stanno uscendo e vi ricordo un like al video, l'iscrizione al canale, la campanella per le notifiche, state facendo in tanti vi ringrazio, naturalmente se volete farvi fare un regalo la cover, cover bandito e cover coro del bandito, il link in descrizione è facile facile facile, vi ringrazio, allora non penso che stasera vi mettiate lì davanti alla televisione a vedere l'ennesima dimostrazione di forza del grandissimo squadrone, penso che oramai abbiamo capito che anche gufare serve a poco, quindi concentriamoci sul mercato, concentriamoci su questi ultimi giorni di mercato perché oggi mi sembra una giornata in cui particolarmente escono nomi dappertutto, addirittura è uscito il nome di un attaccante del Newcaster, William, 31enne, sinceramente sono rimasto un po' basito quando, almeno che non lo so, possa essere una mossa per così, ma addirittura a titolo definitivo sembrerebbe, non credo, sinceramente non penso che si vada su questo tipo di attaccante in questo momento, però, poi è uscito il nome di Cialobà, ne abbiamo parlato anche nel video di stamattina, in virtù dei rapporti con il Chelsea e via dicendo, su Cialobà però parliamo adesso perché c'è un però, poi c'è un difensore del Paris Saint Germain che secondo fonti che si stanno ripetendo oggi avrebbe addirittura fatto le visite mediche col Milan ma non le avrebbe superate, macchie lele mi sembra, anche qui da prendere con le pinze, e poi il nome che magari fosse vero, il nome di Samasic, ci sarebbe un interessamento del Milan, giugno però, ecco io sul mercato di giugno sinceramente lascio, sapete che non già faccio fatica per come facciamo noi il mercato a stare dietro alle notizie che riguardano diciamolo oggi, domani a dieci giorni, quando finirà questa sessione di calciomercato invernale, figuriamoci se mi va di stare dietro alle voci che escono per giugno, non ha senso, non è questo lo spirito del canale, non vuole essere un canale sensazionalista, mi piace più entrare nel dettaglio delle cose, delle problematiche, allora facciamo un ragionamento un attimo insieme, partiamo, visto che sono due i nomi secondo me interessanti tra quelli che sono usciti oggi, e cioè Cialobà e Samasic, Samasic però lo mettiamo da parte perché sarebbe sicuramente un sì, sarebbe un sì a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, sarebbe sempre un sì Samasic, ha un prezzo anche che secondo me è persino basso per il valore che ha questo giocatore, si parla di 25 milioni, ma se fosse una cosa adesso, un'occasione, prendi e scappa, fermo, subito, ma se devo andare a ragionare per giugno, sono troppe cose che sono in mezzo, che possono succedere e che insomma non mi fanno tremare i polsi, ecco, quindi concettiamoci su Cialobà, Cialobà Cialobà è un difensore che l'anno scorso volevano tutti, lo voleva il Milan, lo voleva la squadra dei cartonati costava, costava parecchio, costava parecchio e chiaramente le motivazioni non sono le stesse perché noi sappiamo che non spendiamo soldi perché è una scelta societaria quella di essere sostenibili e di praticamente arrivare al pareggio di bilancio, questa è la mission di Cardinale e dei nostri dirigenti, il pareggio di bilancio, quindi tot esce, tot entra e quello che viene investito è quello che si ricava dai risultati sportivi sostanzialmente, quindi la gestione deve essere a zero, a pari, possibilmente anche in positivo, comprendendo il ricavato dei risultati sportivi gli altri non l'hanno preso perché sapete che non possono, se non cedono dei giocatori non hanno proprio la possibilità di acquistarne, quindi è una gestione mirata proprio alla sopravvivenza in quanto non arriva nulla, a proposito Zang sarà a vedere la partita strano che non vado a vedere una finale, vero? Non trovate strano anche voi, ma magari c'è stasera e poi magari mi smentisce, lo inquadrano o scende giù a festeggiare, non lo so, sono curioso di vedere, stasera guarderò quando ci sarà la premiazione se, come ha fatto in tutte le altre occasioni della Supercoppa, scenderà in campo a festeggiare con la squadra, lo scopriremo insieme, ma dicevamo, la loro è una gestione diciamo proprio di un club che non ha proprio, non è una scelta aziendale, proprio non se ne può fare diversamente e quindi non è arrivato né al Milan né all'Inter, però poi si è fatto male Cialobà, si è fatto male, ha avuto un lungo infortunio, ora è clinicamente guarito ed è rientrato, però non ha ancora mai giocato, quindi è vero che è chiaro che al Celsi possa far comodo dare Cialobà in prestito, vederne le condizioni, mettere magari un diritto di riscatto, certo per noi prendere un giocatore, sostanzialmente provarlo per un'altra squadra, poi dipenderà da quanto sarà il diritto di riscatto, se il diritto di riscatto non dovesse essere molto alto, allora si potrebbe configurare un'operazione alla Tomori, certo con tante incognite, cioè l'incognita del posto infortunio, l'incognita della condizione del giocatore, di quanto tempo ci metterà a entrare in condizione, deve capire il calcio italiano, non lo so, toglierebbe posto Simic, sostanzialmente perché una volta rientrati Tomori e Ciao con Chiere e Gabbia, insomma la vedo dura che possa scalzarli tutti e quattro o scalzarne 30 e diventare titolare, quindi è un'operazione che può servire magari a tamponare questi due mesi se ci dovesse essere qualche problema e magari valuti il giocatore, se va bene puoi pensare di, perché il giocatore comunque è quotato, è un giocatore che aveva molto mercato come ho detto prima la scorsa stagione, quindi potresti valutarlo e decidere, ecco, certo non è il calciatore che lo prendi e sei sicuro che sei a posto, diciamo, anche perché in questi due mesi che saremo in difficoltà lui comunque dovrebbe fare la gamba della partita perché non ne ha e capire il calcio italiano, quindi ho qualche punto interrogativo, comunque vedremo nulla è certo, nulla è deciso, Samargis se ve l'ho detto mi andrebbe bene in qualunque mese, basta che arrivi perché lo ritengo un grande giocatore, un bel giocatore sicuramente potenzialmente uno di quelli che può diventare forte, forte, forte. Staremo a vedere, staremo a vedere, seguiremo insieme e mi raccomando stasera tutti pronti finalmente a salutare Stefanino Zanc che scenderà in campo con la squadra ad alzare il trofeo, non vedo l'ora così mi tranquillizzo e vedo che sto bene. Un like al video, iscrizione al canale, vi ringrazio, forza Milan sempre!